Siamo qua con... Ciao ragazzi, ciao scambattini, sono carico a parlo, divisa in stima con i mani coppia. E tra, bello buon perdone, che tantino. Allora, oggi si dà tutto, tutto quello che abbiamo dentro, però ho che non cadere, bravo, bravo. Grazie per l'aiuto. Adesso andiamo dai. Ci sentiamo alle otto, poi alle otto. Ecco i primi bombardoni, dai che stanno rientrando, però sono tanti eh, questi rientrano tutti, in discesa rientrano tutti. Ma anche questi qua. Di nuovo, non ce n'è mica neanche uno del bike. Dici? No, c'è mettito. Corretto. E track. Mango. E track. Grande Mango. No no, è Eddie. Eddie Sherry. Dai che arrivi i bombardoni. Guarda, ci sono le frecce rosse, eh? Questa è delle frecce rosse. Chi è il secondo? Sembra Silver. No, non è Silver. Però c'è uno delle frecce rosse. Vai, frecce rosse! Vai, bombardoni! Belli, belli. Io voglio roba. Questa è il curatore buono eh. Silver è una amica, io voglio. Com'è che non c'è Silver, porca madonna? Vai, coppo! Vai, coppo! Vai, Silver! Vai, Silver! Vai, Cinni! E Marco in due è il Marco? Dai, dai, dai! Vai, vai! Marco in due è il Dio Boi, Marco. C'era, c'era Marco? No, c'era Iader e Baldo. Puttana madonna, dove c'è Marco Dio Boi? Sei sicuro che non c'era Marco? No, Marco non c'era. Eccolo Marco, è qui, qui. Vai, Marco! Vai, bisogno, vai! Vai, vai! Dio Boi, ma quanto vanno? Puttana madonna, ma i primi quanto cazzo andavano Dio Boi? Oh, a essere qua Marco? Puttana madonna, ma chi mi è nato andato? Vai, Marco! Vai, vai, vai! Vai, Marco, vai! Vai, Marco! Vai, Marco! Beh, Marone è lì, eh! No, Marone comunque doveva essere più avanti secondo me. Beh, beh, però... Però questo non fa mica male lui. Eh, c'ho... È 80 kg lui. Eh, adesso... Oh, c'è... Te lo sento? 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 Vai, Gado! C'è Gado, è indietro. Qui va indietro, Gado. No, ma... Volevo dare mio cugino! Vai, 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 vai! Vai, Xambi! Vai, Xambi! Occhio, occhio, occhio! Non vediamo che la forma è la lingua lunga! Allè, allè, allè! Fanelli? Ah, Fanelli... 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 Fanelli, non scherzi, ma c'è... Fanelli, buon dare! Occhio, eh! Vai, bypass, Ions! Vai, vai, vai! Vai, Mirko, vai! Vai, Mirko! Vai, Mirko, siamo cornacchione, Mirko, eh! Puttana, vigliata! Vai, Matteo! Vai, Matteo! Vai, Xambi! Vai, Xambi! E poi, Xambi! E poi, Xambi! Tutti in punta di shell! Vai, Matteo, Xambi! Per me è andato in banana! Anche per me! Ma io pensavo che bello è arrivato nei primi dieci! Ma, ma, ma... Si è profittata questa, Matteo! Ehi! Campion! Tio Silver era nel terzo gruppetto di Obama, quelli delle Frecce Rosse! Ma quanto cazzo vanno quelli delle Frecce Rosse! Porca puttana! Oh, che si piantano! Però si è passato Massimo! A sinistra? A sinistra, Passione! Occhio, Occhio, Passione! Che c'è un bombardone lì! Qui è il Fanellone? Dove è il Fanellone? No, è il Fanellone! C'è? E questo, no? No, 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 no! Occhio davanti! Occhio davanti! Lui è quello che corre! Questa è la prima donna! Vai Bombardonna! Qui ce n'è più di uno che è andato in banana qui! Dio, Bofanelli! Dio, Bofanelli! A me ha tagliato a Borgo Tulliere è già... O che ha fatto il lungo! O che ha pensato di fare il lungo! O che ha pensato di fare il lungo! Dio, boh! La prima donna quanto cazzo andava! Poi era... E' Claudio! Era anche bellina eh! La prima donna era anche bellina forte! Questo! Questo è un altro rock! Vai Massimo! Vai Massimo! Val Bombardone! Tio, boh! 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 Fanelli arriva nei duecento! Fanelli! Eh, ma va là! Te dici che Fanelli è già... Fanelli non è passato! Non è mica passato! No, sono già passati duecento corridori! No, duecento no! Duecento no! Però cento... Sono passati di più, te lo dico io! No, adesso... Centodieci, centoventi... Dici, sono già... Duecento! Ma questa è senza... No, no! Ce l'ha il biglietto! Wow! È grande! Ciccio! Vai Ciccio! Il robot passa qua, Ciccio! Ciccio! Ma vuoi che funziona questa? Oh! Oh! Lei faceva il corridore là! Lei faceva il corridore! Chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi c'è? Una passerina! Chi c'è? Vai Marica! Vai Marica! Vai Marica! Vai Marica! Dio boh! Dio boh! Fanellone si fa scaricare dalla Marica! No! Non ne posso credere! Non ci posso credere che Fanelli si faccia scaricare dalla Marica! Dai Dio boh! Vai Davide! Grande! Vai Massimo! Vai Massimo! Dio boh Massimo è insieme con Davide! Vai Bobardone! Davide è lì! Davide è lì! Ma quanto andavano i primi? Fanelli! Quanto andavano i primi? Porca madonna! Vai Fanellone! C'è Fanelli! Vai Fanelli! Luca! Vigno! Vigno! Era con Vigno Fanelli! Si era con Vigno! Vai Pavani! Vai vai! Guarda Barbara! E' la seconda donna! Barbarina Pavani! E' la seconda donna! E' la seconda donna! Orzo bimbo! C'era anche Caroli! Gli va Caroli! Porca madonna! Anche Carolone! Vai Mordente! Dai Degas! Dai Degas! Dai Degas! Dai Mordente a noi! Ehi! Ehi! Vai! Bravo Carletto! Vai Luciana! Carica per Giorgio! Vai Bellina! Vai bella! Vai Giorgino! Vai Giorgio s'è bello! Bello, 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 bello Giorgio. Oh, dagli una bussola. Frecce rosse. Cazzo se vanno. E' buono che la macchina l'è ferma, l'è, porca madonna. Via, via, vieni, vieni, vieni qua, vieni, vieni. E poi che ragione che è andato con la macchina. Ma noi, fai da mezzo e stretto. Dio, rollo. Ma dove va? Dio, boi, ma fermarsi in curva, no? Adesso fermare in curva, no? E che buco che hanno fatto? Minchia, ma che buco hanno fatto, Dio, boi? Porca madonna. Ah, ma questi altri qua non rientrano più. No, Giacomo, dai, duffo. Mai non ce la fanno più a rientrare. Ma, 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 ma. Ha già un minuto. Staccato. Camino, vieni qua. Fermati che c'è la telecamera. Un secondo, dai. Ha già un minuto. Lucio, ha già un minuto, eh? I primi. Ah, sono già passati, erano delle frecce rosse. Questi non ce la fanno più a rientrare. No, 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 erano in quattro. Ma ha già un minuto, guarda, vedi? Adesso arriva il secondo gruppo. Ma, ha già un minuto e venti, eh, ha più di un minuto e mezzo. Questi non rientrano più. No, 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 no. Questi non ce la fanno più a rientrare. Ma, 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 ma. Ha due minuti. Ma, ma, ma. Giulio, sì, sì, sì. Eh, aspetti, ha due minuti. Eccolo il gruppo. Qua c'è, sì. Ma, è che qualcuno ti non cade. Il caglio, devi vincere qua. Vai, due minuti. Due minuti. No, fammi sognare. No, 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 non ce la fanno più a rientrare. Questi non ce la fanno più a rientrare. Ah, sì, sì, ce ne ho ancora, ma. Eh, sono tanti qui. Eh, sono tanti, ma. Ma, 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 ma. Sì, sì, ma. Ah, era l'ultimo che mi ha avuto. Due minuti, sono due minuti, eh. Eh, tre minuti. Vai, Bezzi. No, 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 no. Bezzi ha tre minuti. No, 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 no. Non partite. Non so se la c'è. Non so se la c'è. Coppolillo. Vince 688 milioni. Hai vinto Coppolillo. Coppolillo. Secondo 276 pazzini. Coppolillo interno. Hai visto? Hai visto Coppolillo? Ma poi è tirato. Cioè, si, è mai battito a lungo. Ha sprintato da linea brutta. Io, boh, no, no. Ti andavo. Però ha recuperato. Ma sono già qua i secondi, no. Avevo due minuti a Brisighella. Ma su Monticino avevo due minuti. Ha levitato a Brisighella. Giobbà ha recuperato però. Anche nella Calle. Ha recuperato un minuto. Sì, sì. A Brisighella avevo due minuti. È un casino a Brisighella. No, no, aspetta. Aspetta, non mi ricuperò un minuto. Perché siamo a un minuto ora. Ecco, quindi. No, adesso un minuto non mi ricuperò. Dopo la metti su di tutto anche questa? Sì, sì. Ah, bravo. Allora, un minuto non mi ricuperò. No, no, un minuto non mi ricuperò. Ecco, ecco. Ecco, ecco. Ecco, ecco, ecco. 1,15. Puttana. Oddio, 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 oddio. Silva, Silva, Silva. Vai, Silva! Il secondo. Se la giudica è concorrente con il numero 430. Silvio. Quasi come te. Quinto. I aller fabbri hanno subito dietro. Brava, siccome. Sì, ha fatto terzo. Ha fatto terzo. No, terzo. Terzo. Ha fatto sesto, sette. Sessi, sette. Magari andè. Ti ho, per Dio, buono. C'è un po' lui, non è che venga pure una masca che ha neanche lui, perché. Fai passo, Marco, Marco, Marco. Marco secondo del testo. Marco, anche Matteo. È tuo figlio. Sì, Martino e Matteo, erano tutti insieme. Bravo, bravo. Bravo, Sambi. Vai, Sambi. A te sei la mamma di Marti. Sì, qui. Marti, dove era Marti? Lì. Sì, era qui con l'oltre. Sì, sì. Ah, no, sul Casale erano lì, sì, 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 però ha fatto una bella corsa. Bombardoni, Bombardini, sgambardoni, sgambardoni, ci sono gli sgambardoni quelli, sgambardoni. Pietro, Pietro, metti dentro la chat lui. Metti dentro tutti. Giorno dei Cappelletti? Dai di numero al nome. A nome della Ceretolese, a nome della Zanoni, io ringrazio. Quindi oggi volevo fare una dichiarazione. Oggi per quelli che fanno i cartuccioni in mezzo agli sgambardini il carretto è venuto molto duro. Comunque ci avete tenuto in... Non mi ricordo perché è su stacco, però vabbè, ciao. Allora Mirko, allora Mirko. Il coglione davanti invece di accelerare i saliti ha franato. Ma come è fatto a cadere i saliti? Ha franato. Io l'ho capito, sei franato, sei dopo visto che stai benissimo. Ma ma, certo, ma hai fatto vedere. O sei del fuori. E poi ero con i primi, ero con il secondo gruppo lì. Mi sono venuto, mi sono venuto in grattone. Mi sono venuto a fermare, a scendere, 4 notti per i 25. Hai Bombardone. Quanto ti sei fermato là a urlare? Pensavamo che buttavi fuori. Sì, sotto il ponte di Brissighella. Però non era vista di... È il cinghiale che c'è in mezzo. È l'apertura che c'è in mezzo. Sai che avevi 50 secondi? Sì, è l'ottima chiamata. Oh, è lì, c'è meglio che varsi l'inizio. Complimenti. Ottima decisione. Meglio che cade io. Allora Mirko, come c'è andato? Che oscello. Quanto c'è arrivato? Secondo gruppo, quello grosso, non ti è arrivato. Non è forte oggi. Peccato per il crano perché andavi forte. E non me lo sei arrivato. Ah, ma hai portato sotto te lì, dopo il casale. No, io mi sono staccato in discesa. Ma io lo vedevo anche dopo, quando c'è rimasto il gruppo dopo. Ero il dopo di loro. Capito? Dicevo andiamo a regolare, andiamo a regolare. Di che, ce li abbiamo lì? Mi faceva rallentare, capito? Dopo che c'è andato a casa qui di Brissighella, la prima... No, quella a sinistra, la prima fitta qui. Dopo tutto qui di fianco. Qui dopo il polpaccio destro. Oh, ma me l'avevo vista... Mi sono fermato che c'era un ragazzo di Don Borzino. Mi ha dato... Ma che stiga! Non devi cambiare il cerchio. Ho usato tutto, ragazzi, eh? Grandi giorni! Vabbè, papariglia! Ciao! Grande papariglia! Allora? Mi sono fatta battere in volato, ovviamente. Sono una... Seconda? Capito? Qui, tre, ne ho fatto... Seconda? Seconda? C'era la Zuffini. Bezzi è arrivato a 34 esti. La Bezzi! Brava! Tieni, tieni, stacco, Giorno, stacco. Stacco, stacco. Non di sperare. Questa che è la carenza? Ma è Lino! Belli Lino, eh? Gli ha scaricati tutti! Tellero! Tellero! Legato da matti! Tellero, non si è arrivato dopo Lino? No, sono arrivato 5 minuti prima. Grande! Sono di dargli un quarto d'oro invece. Grande Tellero! Liano, quella ragazza dell'anno scorso? Milena non l'ho vista. Ragazzi, andiamo a mangiare. Io vado a mangiare. Sì, andiamo a mangiare. Sì, andiamo a mangiare. Allora, basta a passi. Sì, andiamo a mangiare. Ma... Dietre, ti saluto. Ciao, Lucio. Ciao, Giuliano, complimenti. Allora, se andate... Bravo, Giuliano. Se andate... Vai, Marzello! Vai, Marzello! Vai, Marzello! È un'ordine! Vai, Marzello! Che l'uomo c'è? Non perdono, ricordo. È arrivato. Mi ricordo da Cassani. È caduto. Arca madonna. Sei segna 32. Orca madonna. Da mangiare, dai. Ho pagato dopo per cercare di rientrare. Ho pagato lì. Ma io sul casale... Cioè, a parte che ho perso 5 minuti da catena. Sul casale ho impiccato, eh. Mi dici di farci stare. Siamo alla regione. Siamo alla città. Siamo alla città. Che va, Marzello? Ascolta... 32 di media, cazzo. Siamo alla pagata nel Monticino. 29. Dov'è che hai caduto? Alla mia cinghia. 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 Ah, gli altri no? No, si era fatto subito il gruppo. I due c'eravano staccati. E uno davanti ha avuto paura di una macchina sinistra. Ma si è attraversato. E poi si è andati sopra. Dopo lì... No, sono dato bene. Sono venisse anche mia fede a tua bocca. No, niente. Solo che dopo, sai, ci dai, ci dai, ci dai, ci dai. Io sul Monticino ho perso il gruppo. Dal Monticino, da in cima al Monticino fino... Io adesso vado a casa a mangiare i capelletti perché mi sono rotto i marroncini. Ciao a tutti! Ho aspettato... Ho aspettato... Ho aspettato... Ho aspettato i carretti in cima. Volando per la seconda posizione. Vince numero 148. Staccato! Polperi in siede, stilte Renzi, classe 72. Vince Polperi in siede per distacco.